Un altro drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 626 che conduce a Caltanissetta. In particolare, secondo una prima ricostruzione da parte della polizia stradale Nissena, si tratterebbe di un incidente a catena fra quattro auto e un auto articolato. Una di queste, una Mini Cooper, sarebbe finita contro il camion. Per la persona rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco nell'intento di estrarre il corpo dall'auto. La vittima sarebbe un uomo di 59 anni, originario di Caltanissetta. Nel luogo del sinistro, inoltre, sono arrivate anche alcune ambulanze del 118 in soccorso degli altri feriti, trasportati fra gli ospedali di Caltanissetta, Gela e Mazzarino. Nella fattispecie, l'uomo alla guida della Mini Cooper, prima di scontrarsi violentamente contro il crossover, avrebbe tamponato un'altra automobile. Il luogo dell'incidente sarebbe noto alla cronaca per altri sinistri mortali che si sono consumati in passato, in particolare vicino il ponte Geremia, nei pressi del bivio di Butera, dove nel febbraio del 2022, a causa di un drammatico incidente, ha perso la vita un uomo di 50 anni che si trovava alla guida di un'ambulanza dell'ASP di Caltanissetta.